no assolutamente no è una vittoria importante che insomma intera toscana ne avevamo già parlato in settimana era tanto perché ne avevamo fatta una vittoria con lo scandici quindi parliamo di un girone fa un girone fa quindi sono contento per il risultato alla fine secondo me il secondo tempo in superiorità numerica dobbiamo fare meglio e sicuro non dobbiamo portare questa partita agli ultimi istanti con un filo di speranza per loro quando ci siamo presentati non voglio esagerare cinque volte davanti alla porta una addirittura credo che gulli l'abbia tirata fuori dalla porta quindi carbaio che calcio al volo quando la stoppa e credo fosse sul dischetto del rigore quindi tira un rigore in movimento coccolo davanti al portiere che ne vuole saltare ancora un altro tre volte raia che va dentro e poi arriviamo e concludiamo sempre su un partite che secondo me bisogna chiuderle ma non secondo me secondo il calcio vanno chiuse perché poi rischi perché poi alla fine loro erano molto bravi di testa sia il capitano guidi che il centro avanti vanni e quindi può capitare che poi su una spizzata su una punizione dove fanno il forcing finale ti esce fuori qualcosa ed è un peccato perché comunque primo tempo giocato alla pari finito 1 a 1 secondo tempo dopo primi qualche minuto di del secondo tempo dove c'è stata più o meno sempre equilibrio quando siamo andati in vantaggio abbiamo avuto dei delle praterie e dobbiamo sfruttarle dobbiamo essere più bravi non c'entra l'obiettivo finale c'entra la partita prossima non fare gli stessi errori resta comunque un risultato prestigioso su un campo importante contro una squadra che ha delle qualità e le tira sempre fuori e se continua a fare un campionato così è perché ha grandi valori quindi questa vittoria acquisisce molta importanza. Mister al di là del risultato oggi ha convinto molto l'atteggiamento della squadra in trasferta non si era visto spesso un albissola così e anche dopo il gol del viareggio dopo un minuto vi siete rimessi lì con calma e avete portato a casa una grande vittoria. Sì ho rivissuto un po' gli attimi del del girone di andata quando dopo 4 5 minuti in casa abbiamo preso l'1 a 0 per il viareggio poi onestamente abbiamo difeso bene non abbiamo mai subito cose particolarmente pericolose abbiamo cercato di giocare non è facile perché loro sono bravi ti chiudevano su un lato non ti facevano girare dall'altra parte la superiorità numerica in mezzo al campo loro con un centrocampo a 3 noi con un centrocampo a 2 comunque non era facile venire fuori giocando quando ci siamo riusciti siamo stati pericolosi il gol del 2 a 1 viene fuori da una giocata di questo genere dove riusciamo a sbloccare con i due mediani Rai e Sancinito poi Sancinito mette una palla splendida per coccolo che poi a sua volta fa un assist favoloso per Gulli e lì la metti sul 2 a 1 restano un uomo in meno devi chiuderla perché hai creato le situazioni per farlo ma troppe volte non hai concluso cioè il loro portiere parate vere e proprie non ne ha fatto perché abbiamo sempre calciato o non siamo arrivati a calciare o fuori dalla porta o non siamo arrivati a tirare perché ci siamo inceppati o perché abbiamo calciato fuori quindi questo è dobbiamo essere più cattivi sotto questo punto di vista perché è una partita che ti ripeto l'ho già detto gli ultimi dieci minuti poi arrivano questi palloni dentro l'area di rigore loro hanno dei giocatori molto forti di testa e può succedere un patatrac cosa che invece tu la metti sul 3 a 1 finisce la partita è un uomo in meno 3 a 1 però mentalmente loro smettono è quasi una cosa non sono un mago però credo che la partita finisca lì mister sei punti nelle prime due trasferte delle girone di ritorno all'andata avevate fatto sei punti in tutto il girone d'andata quindi la squadra sta crescendo anche sotto questo punto di vista assolutamente se se tu in cinque partite fai 13 punti sei sei migliorato sei migliorato adesso il timore è quello di andare a vedere fra dieci partite se riusciamo a guardare montecatini domenica prossima in casa nostra e vederla per quello che è una partita tre punti clamorosi giganti come il mondo allora forse e manteniamo questa attenzione questa lucidità soprattutto nella capacità di soffrire perché oggi abbiamo sofferto perché avevamo davanti una squadra forte ma l'abbiamo fatto anche con ordine senza mai andare in troppa confusione siamo riusciti a venire fuori comunque da un forcing e a creare delle palle gol è mancato il gol perché se facciamo il 3 a 1 parliamo secondo me di una partita importante grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti